Ciao, bentornato oggi sul canale Spettacoli Televisivi, con notizie come Un volto amatissimo della serie tv Mina Settembre ha pronunciato alcune parole che gettano i fan nello sconforto totale Futuro a rischio.Una delle serie tv più rivelazione degli ultimi anni è sicuramente Mina Settembre Protagonista è Serena Rossi, che veste i panni di un'assistente sociale napoletana dedita alla sua città e al suo popolo e sempre pronta ad aiutare chi ne ha bisogno Nel privato, però, non è altrettanto brava, separata dal marito, nella prima stagione si avvicina al ginecologo del consultorio per cui lavora, per poi tornare su suoi passi alle prime puntate della seconda stagione Insomma, la serie tv è ban confezionata e gli attori stanno riscuotendo enormi successi, sia in termini di auditel che di popolarità Nelle ultime ore, però, uno dei protagonisti ha rilasciato un'intervista che ha gettato nel panico i fan Attore dal fascino ombroso e coinvolgente, Giorgio Pasotti Mina Settembre interpreta Claudio, il marito dell'assistente sociale Se nella prima stagione il loro matrimonio sembrava definitivamente finito, nelle prime puntate della seconda Mina Settembre torna su suoi passi e ricomincia a vivere la storia con suo marito, arrivando addirittura a parlare di futuro e di figli Domenico, il ginecologo, è però sempre presente e non manca di suscitare a Mina qualche dubbio, qua e là Nelle ultime ore, Giorgio Pasotti ha concesso una lunga intervista alla Nuova Sardegna, rivelando di star vivendo un periodo molto intenso Oggi si trova infatti impegnato con Hamlet di Shakespeare, che porterà in scena Cagliari dal 9 al 13 novembre Durante l'intervista, Pasotti ha anche parlato di una critica che l'ha recentemente travolto, quando ha rifiutato l'etichetta in questi anni attribuita a tutti gli attori che, secondo i più, sono tutti di sinistra A suo parere, infatti, l'arte non ha colore politico e insultare Giorgia Meloni è sbagliato, poiché prima che politico è un essere umano, oggi tutto viene strumentalizzato da una parte o dall'altra, dunque meglio tacere Verso la fine dell'intervista H ha poi parlato del proprio lavoro, ammettendo come non riesce e non riuscirà mai a scegliere tra televisione e teatro, due esperienze completamente diverse A un certo punto, però, ha detto, alle serie bisogna stare attenti, rischiano di essere una prigione Che questa seconda stagione di Nina Settembre sia per lui l'ultima. Questa frase lascia intendere solo una cosa, Giorgio Pasotti vuole scegliere bene a cosa aderire e, soprattutto, non vuole perdere il controllo Grazie per aver guardato l'intero video. La notizia è qui per finire, mettete mi piace e commentate, in particolare cliccate iscriviti al canale, per ricevere le ultime notizie Ciao e ci vediamo nei prossimi video Grazie per aver guardato il video Grazie per aver guardato il video Grazie per aver guardato il video